Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, io sono Marco E io sono Domenico Oggi ragazzi siamo qui in un altro video di mostrazione Ovviamente tutto il bordello qua nell'aereo morti L'evento E per rispondere a una vostra domanda Anche se non ce l'avete mai fatta È possibile morire schiacciati dal proprio lancio d'equipaggiamento? Eccoci qui ragazzi, abbiamo i soldi per un lancio d'equipaggiamento E vediamo subito se muoio schiacciato Tu riprendi la visuale, fammi vedere Allora io lo tiro qui eh Vai 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 tanto vado sotto al fumo Vai Oh mio Dio ho paura Sto vedendo la morte in faccia Oddio Morso E ragazzi Possibile essere schiacciati dal proprio lancio d'equipaggiamento Non lo fate a casa Quindi me lo prendi Ragazzi questo video è passato, mettete un mi piace Adesso per sapere cosa hai pensato Noi possiamo portare altri magari Proponete Intanto vado al Gulag Ciao ragazzi Ciao Bella merda Sarai parte del video Ti sento velocissimo Sarai parte del video Ti sento velocissimo Ti sento velocissimo Ti sento velocissimo Ti sento velocissimo